Finisce 7-0 per il Pescara, il test di amichevole contro la viscerratina Silvi, gol 2 nel primo tempo, 5 nella ripresa, nel primo tempo Piga, tersino destro, Meazzi esterno offensivo sempre a destra, tridente completato da Edoardo Vergani e Gianmarco Cangiano. In campo per tutti i 90 minuti i neoacquisti, Moulet in difesa e Lonardi schierato come regista. Out, Brosco e Squizzato non hanno preso parte al test amichevole, i gol li andiamo a raccontare. Ci ha messo tanto il Pescara per sbloccare la gara, al 43esimo il destro di Gianmarco Cangiano, palla precisa all'angolino, il raddoppio un minuto più tardi, la pressione recupero palla di Vergani per Tuniov che ha fissato il punteggio sul 2-0, tanti cambi nella ripresa. Dentro, Ferraris e un ottimo Arena classe 2009, tre gol per Ferraris in gol da gasso anche con un bel sinistro e in gol nel finale al 42esimo proprio Arena per il 7-0 finale. Abbiamo ascoltato poco prima della partita Lorenzo Lonardi arrivato da una settimana e lo ripetiamo oggi in campo per 90 minuti, lo ascoltiamo. Tanto benvenuto a Pescara Lorenzo Lonardi, una partita, una vittoria e la festa sotto al settore con tanti tifosi inizia da bene? Sì, diciamo che è iniziata nel migliore dei modi, speriamo che sia la prima di tante e ringraziamo comunque i tifosi per essere venuti così in tanti, non trasferta comunque non proprio vicina. È iniziata benissimo e speriamo che vada sempre meglio. Domanda difficile difficile, chi è Lorenzo Lonardi? Sono un ragazzo tranquillo, sereno, che cerca sempre di dare il massimo in qualsiasi cosa faccio e il mio obiettivo sicuramente è quello di tornare un po' a giocare, cosa che nell'ultimo anno ha fatto un po' meno e di riuscire a dare una mano alla squadra. Lorenzo Lonardi e Pescara è una storia abbastanza lunga perché già quando eri alla Virtus Verona avevi l'ultimo anno di contratto, non rinnovavi e già a gennaio il Pescara era andato alla carica con te. Sì, diciamo che è già qualche anno che comunque mi corteggiano, mi stanno dietro e questo fa sempre piacere. Quest'anno è venuta questa opportunità e ho deciso insieme anche al mio procuratore di prendere la considerazione e quindi sono molto contento di essere qua. Baldini ha detto in conferenza, ho parlato con Lorenzo e mi ha detto che può giocare in tutti i ruoli del centrocampo. Sì, diciamo che negli ultimi anni tra vari moduli ho fatto tutti i ruoli del centrocampo, quindi sicuramente quello che mi si dice di più è un po' il regista, il mediano, però comunque ho fatto anche la mezzala, il centrocampo a due, quindi sono pronto a fare qualsiasi ruolo, il mister dice che devo giocare e io gioco. Mi dice a chi ti ispiri dei grandi del calcio? Beh, allora, dei grandi del calcio ce ne sono tanti, diciamo che il mio idolo da bambino è sempre stato Kakà, che lo ammiravo per le sue geste calcistiche, però negli ultimi anni penso che il calciatore che mi è piaciuto molto, che adesso quest'anno si è ritirato, è Toni Kroos. Ti chiedo l'ultima, proprio prima di parlare di un flash della Torres, quando da gasso hai visto che ha tirato e ha segnato, visto che tu sei partito proprio sotto la curva, un po' all'improvviso? Sì, no, diciamo che tornare in campo è sempre bello, poi vedere che comunque avevamo appena preso golle, sembrava un momento un po' così in cui loro potessero metterci un po' sotto, invece siamo stati bravi, concentrati a ribaltarla subito, è stata una bella emozione e speriamo che di momenti così ne arrivino altri. Torres? Speriamo, dai, speriamo no, dai, la squadra comunque, anche la Torres è una squadra importante, forte, come lo siamo anche noi, quindi sicuramente sarà una bella partita e speriamo che siamo noi la fine a vincere.